Oggi cerchiamo di aiutare Silvano Galasso che mi ha chiesto come poter creare una barra grafica che possa segnare un offset positivo o negativo. Utilizzeremo quindi l'SSD1306 e un trimmer. Se non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi, è gratuito, a voi non costa nulla e a me aiuta a crescere, quindi mi dà un contributo maggiore. Iniziamo subito. Silvano Galasso ha chiesto come fare per pilotare un display OLED SSD1306 utilizzando una barra che possa segnare sia positivo che negativo. Quindi useremo l'SSD1306 con un Arduino, approfitteremo per utilizzare un R4 con un trimmer. Sul display deve apparire una barra che dà un offset immagino, quindi ci sarà un minimo e un massimo, una posizione centrale che è lo 0 e regolando, spostando il trimmer da sinistra verso destra dovremo vedere la barra che va o a destra o a sinistra secondo dei valori. Allora intanto l'hardware che è abbastanza semplice, usiamo il nostro Arduino Uno o R4 in questo caso o meglio l'R4 perché ha molto più memoria e con il display non abbiamo poi problemi. Il display SSD1306 lo colleghiamo via i2C, io ho utilizzato un display da 32x128 senza il reset quindi avremo il GND che colleghiamo con il GND di Arduino, poi abbiamo i 5V che li colleghiamo ai 5V del nostro Arduino e poi i pin SDA e SCL. SDA e SCL li possiamo prendere, questo è l'SDA, sul pin A4 e l'SCL sul pin A5 anche per l'Arduino R5 funziona in questo modo, altrimenti potete utilizzare gli appositi pin SCL e SDA posti vicino al pin 13. Poi abbiamo il trimmer, ve lo disegno qua un po' sacrificato, però anche lui tra i 5V e GND. abbiamo il trimmer a piacere, io ho preso un 10K collegato sul pin A0. Spostando il trimmer andiamo da 0 a 1023. Dovremmo cercare un sistema per visualizzare la barra grafica da una parte all'altra. Vi faccio vedere rapidamente l'assemblaggio sulla Brebor, qui lo vedete già composto, faccio capire un attimo l'effetto, quindi il risultato che raggiungeremo sarà questo, no? Vedete la barra che si sposta. Quindi display S6304 collegato a SD, SCL all'Arduino e poi la 0 del nostro trimmer. L'alimentazione 5V e GND portata sulla Brebor che poi la distribuisce tutta in giro. Andiamo a vedere il codice, che era la parte più ostica, ma basta ragionare con un po' di tranquillità e se ne viene sempre fuori. Apriamo uno sketch vuoto. Prima di procedere verificate di aver installato le librerie. Io ho installato le librerie, ve le faccio vedere qua, per SSD 1306, quelle di Adafruit. Quindi eccole qua, Adafruit SSD 1306, da me sono già installate. Le installate e poi vi trovate gli esempi. Rubiamo le informazioni di base dall'esempio. Quindi una volta installate le librerie, sotto File, Example, scendiamo Adafruit SSD 1306. Vado a prendere l'esempio SSD 1306 128x32 i2ci. Lo apro. E qua copiamo la parte iniziale, che serve per la configurazione della scheda, per fare il setup. Quindi c'è un commento molto lungo iniziale, ma a noi basta prendere. Questi include, vi serviranno anche le GFX, se non le avete installate vi chiederà se volete installarle, installatere. Poi delle costanti per le dimensioni dello schermo e poi l'inizializzazione. Possiamo fermarci fin qui. Quindi copio. Vado sul nostro sketch vuoto, mi metto l'inizio, incolliamo qua. Facciamo un po' di pulizia. L'SPI non dovrebbe servire perché andiamo via i 2C. Potete commentarlo, poi vediamo se non funziona, lo rimettiamo. Quello indispensabile sono queste librerie. Delle costanti per le dimensioni dello schermo. Qui possiamo togliere tutto. Il pin di reset non c'è sul display che ho io, ha solo 4 pin, altrimenti dovrebbe avere 5 pin. L'indirizzo dovrebbe essere qui di default 3C. E qua abbiamo l'inizializzazione del nostro display. Ce lo prendiamo pari pari. Poi se andiamo un attimo ancora nel nostro esempio che poi chiudiamo, abbiamo la parte di inizializzazione. Qui abbiamo questo display begin che verifica se tutto è a posto, altrimenti si blocca. Possiamo copiare anche questa parte, anche con la seriale, così risparmiamo un po' di inserimento di codice. E chiudiamo proprio lo sketch. Andiamo qui, faccio incolla e facciamo pulizia. Mi tengo la serial begin, mettiamo la 115.2, un pochino più rapida. Vi ricordo che questi sono bold al secondo, cioè simboli al secondo, non beat. Poi abbiamo qua l'inizializzazione del display. Se qualcosa va male, di solito il cablaggio, ci fermiamo con un while 1, vuol dire che gira all'infinito. E poi qui facciamo semplicemente clear del display, cioè puliamo tutto. E ogni volta che modifico qualcosa devo poi fare display.display per farlo vedere. Quindi siamo pronti per partire con il nostro codice, i nostri ragionamenti. Nel loop potremmo mettere un delay, però nell'ottica che questo codice vada inserito in qualche altro progetto, rendiamolo non bloccante. Quindi creo un timer unsigned long t1. Qui sotto nel loop prepariamo la struttura per gestire questo timer non bloccante. Facciamo un if, metto millis, tempo corrente, meno t1. Guardo questa differenza. Quando questa differenza è superiore facciamo 100 millisecondi. Allora andiamo a visualizzare sul display le informazioni che ci servono per non essere troppo pedanti. Pedanti, ok, per non esagerare. Si può mettere anche 200 se volete. Prima di uscire dall'if ricordiamoci di salvare dentro t1 il tempo di uscita, così che possiamo far riscattare di nuovo il timer. Se avete dubbi sui timer andate a cercare qualche altro mio video, ce ne sono parecchi che spiegano. Allora adesso, cosa facile, leggiamo qua l'ingresso analogico, il trimmer. Quindi avremo un int v uguale a analog read di a0. Abbiamo qualcosa che va da 0 a 1023, lo rimappiamo subito con map. Map si prende il valore di v, questo va da 0 a 1023. Lo rimappiamo, visto che deve andare in positivo e negativo, lo rimappiamo sulla larghezza del display. Quindi da 0 a display.width. Allora questo qui va da 0 al massimo, però funziona una roba del genere se noi abbiamo una barra unica. Invece noi vogliamo centrarla questa barra sul display. Quindi il valore che abbiamo preso adesso è qualcosa che va da 0 a larghezza del display, quindi a 128. Qui abbiamo fatto un mapping. Quando il trimmer va da 0 a 1023, abbiamo una grandezza che viene riportata a 0,128. Abbiamo fatto semplicemente una proporzione. A questo valore dobbiamo trasformarlo in qualcosa che è a cavallo dello 0. Quindi qui ho qualcosa che andrà da 0 a 127, se io faccio meno display.width diviso 2, lo riportiamo tra 0 e 63 e 0 e meno 64. Quindi è un valore che oscilla attorno allo 0. Dobbiamo capire come visualizzarlo. Allora intanto prima di visualizzare facciamo così, puliamo il display con display clear display che troviamo qui, mi copio queste due, le metto qua. Quindi pulisco il display, il display.display la metto in fondo vicino al millis, dopo aver fatto tutti i disegni visualizziamo tutto. Allora facciamo qualche ragionamento. Intanto potrei disegnare il reticolo facendo un draw ret, quindi qua display.draw, disegno un rettangolo vuoto. Il rettangolo vuoto parte da 0,0, angolo in alto a sinistra, e va fino a tutto lo spazio che abbiamo a disposizione. Quindi abbiamo il display width che trovo qua, quindi tutta la larghezza del nostro schermo, virgola, l'altezza facciamo da 10. Diamo io il colore, ci sono delle costanti predefinite tipo ssd1306, underscore white, questo mi fa il bianco. Tracciamo una riga in mezzo per segnare la mezzeria. Mi copio tutto questo codice, facciamo draw, questa volta faccio line. La riga devo disegnarla a metà schermo. Metà schermo sarà, devo dargli le X e la Y, quindi la X sarà display.width diviso 2. Mi copio questa, è già pronta. Quindi punto di inizio, display width meno 2. Parte dalla Y0 e scende questa riga, quindi avremo display width diviso 2 e arrivo a 10. Questo dovrebbe farmi il mio riquadro. In caso di dubbio, proviamo a caricare e vediamo cosa succede. Quindi intanto carichiamo, proviamo a vedere apparire un semplice riquadro con il taglio. Ok, una volta caricato, vedete abbiamo il riquadrino con il taglio in mezzo. Torniamo al codice. Allora, mi creo due variabili qua. Una int X e W. X è la posizione di inizio del nostro rettangolo e W sarà la larghezza, perché noi abbiamo il rettangolo che abbiamo appena disegnato con la mezzeria in mezzo. Adesso dovrò disegnare qui dentro un rettangolo colorato che potrà essere nella parte di destra o di sinistra a seconda del valore che vado a leggere, questo famoso V, se è positivo o negativo. Sicuramente tutti questi rettangoli avranno che cosa in comune? Un punto di partenza, che è questo. Il mio punto di partenza, questo qui, la coordinata di questo punto, nel caso verde, o quello giallo che trattiamo dopo, comunque questa coordinata la chiamo X. L'altra coordinata che mi serve è la larghezza di questo rettangolo, che è la V, perché quando disegno il rettangolo devo dargli il punto di inizio, quindi le coordinate di questo puntino qui in alto, e poi devo dire quant'è la sua larghezza e quant'è l'altezza. L'altezza la metteremo fissa uguale a 10. Dobbiamo calcolare in dinamico X e W. Distinguiamo due casi per non fare confusione, poi chi è bravo magari riesce a farlo in un colpo solo, però se io divido le cose ho V maggiore di 0. Se V è maggiore di 0 ho un certo tipo di comportamento e disegnerò il mio rettangolo in un modo. Altrimenti S, if V è minore di 0 dovremmo fare diversamente, divido il mio problema in due metà. V maggiore di 0 dovrebbe essere più semplice. Qui, come faccio a calcolare nel caso di V maggiore di 0, quindi il mio rettangolo va nella parte di destra, la posizione iniziale. La posizione iniziale del mio rettangolo è facile, è questo qui verde, quindi sarà sempre fissa a larghezza dello schermo fratto 2. Allora, torniamo qui, la nostra X sarà uguale a larghezza dello schermo. Ho combinato un pasticcio, ho messo queste variabili, questo if nella parte setup. Spostiamoci qui per carità nel loop, non mi sono accorto, ecco qua. Qui nel loop prendiamo display width, lo diamo alla X diviso 2, punto iniziale. Invece poi la larghezza, il W, quanto sarà? Sarà pari proprio a V, V può essere solo maggiore di 0 e questo mi fa crescere la mia barra sulla destra. Possiamo caricarlo e provarlo, girando il trimmer vedete che cresce solo se sono oltre la metà. Se vado dall'altra parte non succede nulla. Ora ci occuperemo dell'altra metà, quindi V minore di 0. Qua dobbiamo semplicemente fare qualche ragionamento. Allora, la X è la posizione iniziale. In questo caso la posizione iniziale sarà dinamica. La X la faccio in azzurro, che è questa X nel caso di V minore di 0, come sarà? Devo prendere il punto di mezzo, che è il nostro width fratto 2. Questa parte qui è il V che viene già calcolato, occhio che è negativo. Quindi la X iniziale per il nostro rettangolo sarà pari a metà dello schermo, quindi V mezzo, meno V. Occhio che V è negativo, quindi gli metterò più V, quindi cambio il segno. Quindi metterò X uguale display width diviso 2, e lo incolliamo qui. E poi dovrei fare meno V, ma meno è negativo, quindi facciamo più V e facciamo in questo modo. La larghezza è pari già al valore che abbiamo ricavato di V. Occhio perché è negativo, quindi gli metto il meno davanti. Quindi in questo modo lo facciamo crescere, cioè sposto semplicemente la coordinata della mia barra. Carichiamo e dovremmo essere a posto così. Girando il trimmer, vedete che la barra va a destra e a sinistra. Per oggi è tutto, spero che il video sia andato bene, e soprattutto che abbia risolto il problema di Silvano. Come avete visto è sempre questione geometrica, quindi basta riflettere un attimo con le coordinate XY, queste cose qui. Mi fa piacere sviluppare, approfondire i temi che mi proponete, soprattutto se sono di tipo generale, quindi possono essere utili a I+, quindi non solo al richiedente. Bene, spero sia stato interessante. Vi ricordo se non siete iscritti di iscrivervi. Vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo presto. Ciao! Ciao!